Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con il bravissimo attore Lele Provizio, ciao! Ciao il salutatore Parvide, allora io saluto tutti, saluto tutti quelli che ci seguono e che seguono te che tu hai tantissimi e tantissime fans che ti seguono Sì, non lo so, speriamo, niente, quindi seguiteci, noi siamo felici, noi cerchiamo di fare qualcosa di bello e niente, i nostri riferimenti è Facebook mio, io ho una pagina che si chiama Lele Provizio che non è seguita personalmente da me ma è una persona che mi piace molto cara, non so come se fossi io e poi sono su Instagram e su Twitter E lì li utilizzi te o sempre? No, no, Twitter e Instagram li utilizzo io, Facebook ma è come se fossi io, questa persona che li seguo perché io non sono molto, non sono molto tecnologico No, piano piano, piano piano Lelevi una mano e niente, quindi quella è la pagina Scrivete, linkate, a questo punto salutiamo tutti i tuoi fans Ciao a tutti Ciao e salutiamo tutto il web, Twitter, Facebook Tutto il web Bacio Ciao Ciao E ho una sorpresa per te Per me La mano del salutatore Questa è per te E salutiamo tutti Ciao Ciao Ciao